qui abbiamo il castello della fioraia dietro e quindi ecco è questa bellissima cosa che purtroppo però non tutte le cose le ha belle quindi soprattutto questa strada questa strada che si perché da qui in su asfaltata questo pezzo qui sotto no ma noi l'aglio maggini consigliere anche da qui in su è un pezzetto ed asfaltare è perché ha un filo di soldi questi sono 200 metri sono 200 metri che devono asfaltare ma dice no e che c'è la soprintendenza ma l'asfatto si fa di quello bianco si fare si fa un altro tipo da qui da quel cipresso in giù è vincolato si sa benissimo anche a staturizzazione per mettere la tubazione potremmo chiedere tranquillamente per fare il resto invece no il comune aveva fatto una convenzione nel 2011 2011 fatto una convenzione con tutti i cittadini qua su del rocolino con tutte le persone e comune si era impegnato a fare l'asfalto che fu fatto da sottoscritto noi e coi soldi dei cittadini fu fatto l'asfalto nella rotizzazione c'era da fare l'illuminazione invece non è stata messa perché la doveva mettere questa amministrazione doveva fare il resto doveva fare il resto l'asfalto fino a un fondo e da qui in giù si fa bianco si chiede l'atturizzazione tranquillamente la soprintendenza trova fare vincolato con vincoli c'è vincoli va bene però si fa ma i soldi sono finiti e questo è il problema grosso qui c'è il problema di questa strada che diciamo d'estate la polvere da castelnuovi tocca tenere le finestre chiuse ma a castelnuovo c'è il problema che quando piove qui l'acqua va tra cima giù e li allaga sia lì sia di là cioè questa è proprio tutta una zona disgraziata se torna una cosiddetta bomba d'acqua ci risiamo e qui si allaga tutto quindi qui se non piove c'è la polvere se piove c'è l'acqua insomma non ci non gli manca non gli manca niente a questi signori